Leggendo la lettera al padre di Kafka ci si rende conto che uno dei rimproveri che Kafka muova al padre è questo, tu mi hai sempre rimproverato su tutto, mi hai sempre fatto sentire in colpa, mi hai sempre fatto sentire inferiore, è come se questa cosa gravasse costantemente sulla schiena del piccolo Kafka e noi questo senso di colpa lo troviamo disseminato soprattutto nel processo che è il romanzo della colpa e probabilmente la domanda giusta non è quella che io ho fatto all'inizio, cioè in cosa K si sente colpevole, forse la domanda giusta da fare è in cosa K si sente innocente, se K si sente mai innocente e la risposta è no, la risposta è che non c'è niente in cui K si senta innocente e non so come dire, ma è come se l'intero romanzo Il processo fosse il romanzo della colpa nel senso che pian piano K capisce ciò che ha sempre saputo, ciò che il lettore ha sempre saputo e ciò che era colpevole e lo capisce nelle maniere più imprevedibili e vorrei farvi due esempi che mi sembrano assolutamente significativi di come la colpa agisca, la colpa in Kafka agisca. Uno è un episodio che sarebbe divertente se non fosse assolutamente drammatico ed è quello che va sotto il nome del romanzo, noi troviamo sotto il titolo di I bastonatori. K è in ufficio, è già da settimane sotto processo e improvvisamente da uno sgabuzzino che lui credeva appunto una stanzetta dove c'erano soltanto le scope, gli attrezzi e via dicendo, tipici bugigattoli da ufficio, sente provenire degli urli. È una scena naturalmente completamente surreale, in questo senso completamente kafkiana. K, incuriosito e un po' inquietato, apre questa porta e dall'altra parte vede che ci sono i due uomini, proprio quelli che lo hanno arrestato, che non sono, come lui inizialmente aveva creduto, dei poliziotti, ma sono delle persone che lavorano in un ufficio da lui, anche se stanno ad un livello molto più basso del suo, che come secondo lavoro fanno quello, cioè vanno ad arrestare i colpevoli e trova questi due che vengono bastonati, c'è un bastonatore, uno che gli sta bastonando dietro e urlano e piangono e che accusano K. Di cosa lo accusano? Lo accusano del fatto che quella punizione che gli viene inflitta dipende da lui, è stato lui a denunciarli e la denuncia che ha fatto K, tra le più grottesche, si è lamentato con gli inquirenti, con quelli che lo hanno per primo interrogato, si è lamentato del fatto che loro gli hanno mangiato la colazione. E' interessante la reazione di K a questo punto, la reazione di K non è quella di dire beh, ben vi sta, voi mi avete mangiato la colazione, voi mi avete arrestato, sono ben contento di vedervi bastonati. La reazione di K, tipicamente kafkiana, è quella del senso di colpa, K si sente responsabile, K si sente schiacciato dall'idea che questi due vengono bastonati per colpa sua, per colpa sua e allora inizia a scagionarli dicendo io non volevo farlo, non vi avrei mai denunciato se avessi creduto che poi succedeva la cosa che sta succedendo e che voi venite bastonati. Ecco che quella che in realtà originariamente nasce come un atto di ingiustizia contro K, nella coscienza di K si trasforma in qualcos'altro, la colpa che dovrebbe avere la società per averlo imprigionato ingiustamente invece diventa una sua colpa, è lui a farsene carico. L'altro episodio in cui noi abbiamo il senso della colpa è quello dello zio, dello zio di K, questo processo di cui nessuno dovrebbe saper niente, questo processo segretissimo che sta per condannare, che sta coinvolgendo K viene invece risaputo da tutti quanti a tal punto che raggiunge anche uno zio lontano, questo zio si presenta da K e inizia a dirgli ma cosa sta succedendo. La reazione normale di uno zio amorevole nei confronti di un nipote che ha avuto un po' di successo nella vita e che ora viene implicato in una storiaccia giudiziaria è quello di avere un atteggiamento di grande misericordia e di comprensione nei confronti del nipote. Un bravo zio dovrebbe dirgli lo so che non sei stato tu, adesso la situazione si risolverà eccetera. La reazione dello zio di K è invece completamente diversa, lo colpevolizza, gli dice ma non ti rendi conto che con questa cosa che stai facendo stai mettendo in imbarazzo la tua famiglia, ma come? Ma noi ti avevamo dato tutto, ti abbiamo messo nelle condizioni di fare tutto, tu ci hai ricompensato così bene avendo una carriera così fantastica e via dicendo e ora che cosa succede? Ora ci metti così in imbarazzo. Ecco l'imbarazzo che la famiglia sente è la colpa che K sente. Vedete come anche qui il momento, un momento che dovrebbe essere un momento di solidarietà da parte della famiglia, invece viene percepito da K come una colpa e per capire fino in fondo la colpa così come la intende Kafka, credo che noi dobbiamo pensare sempre a quella sensazione che sta nel cuore di ognuno di noi, di non aver fatto le cose per bene, di essere in difetto, di aver peccato, in fondo come vedremo tra l'altro Kafka parla da una prospettiva eminentemente giudaica, ebraica, quindi molto pesante, molto intransigente, ma è una cosa che riguarda in fondo anche i cristiani, i cattolici, cioè tu nasci e la prima cosa che i tuoi genitori ti dicono è che non devi fare quello, non devi fare quell'altro, non devi parlare con il boccone in bocca, non devi masturbarti, non devi tradire i tuoi genitori, non devi tradire tua moglie quando ne avrai, insomma in realtà vieni reggimentato con una serie di regole e con una sorta di decalogo ferreo che ti rende un uomo esposto più di qualsiasi altro alla colpa, per questo Kafka ci tocca tanto, per questo Kafka ci entra così tanto dentro, perché come nessuno ha saputo darci il senso di quanto questa colpa sia terribile e mortuaria, alla fine del processo K viene ammazzato e la cosa abbastanza impressionante è come K senta in fondo che tutta questa umiliazione a cui è stato sottoposto sia giusta, perché sancisce la colpa, la colpa è sempre stata lì, ora il processo sebbene nessuno abbia dato nome a quella colpa, però il processo ha sancito il fatto che quella colpa è sempre esistita.